salve ragazzi benvenuti di nuovo sul mio canale hi fi culture club oggi abbiamo un altro bellissimo vintagione un preamplificatore yama c4 che io ho già aperto per manutenzionare comunque i vari potenziometri e le varie componentistiche di selezione i vari selettori per quanto riguarda questo preamplificatore possiamo dire che è uscito insieme al finale m4 ed era un impianto molto molto musicale che non aveva niente a che vedere diciamo con la timbrica natural sound che ha yamaha alla fine natural sound è un po asciutta un po diciamo il vero il vero diciamo concetto è quello di asciutto non è rotondo come suono è molto lineare ma molto asciutto questo invece insieme al suo finale è uno di quegli impianti che sono totalmente contro tendenza al natural sound degli anni 90 proprio perché questi erano i primi natural sound ed erano fatti veramente bene fatti bene sia a livello costruttivo sia a livello elettronico e di audio avevano tutte le accortezze per essere comunque di fascia medio alta non alta ma medio alta e che erano abbastanza abbordabili e si potevano acquistare senza spendere un occhio quindi la costruzione è scelsa parliamo comunque di un preamplificatore di metà anni settanta quindi parliamo di comunque un preamplificatore fatto in maniera molto diversa da quelli che vediamo oggi con la micro elettronica qui non abbiamo altro che resistenze condensatori di odi e transistor questo poi è un molto particolare perché ha tantissimi di odi e naturalmente la scheda tecnica la scarico dopo e vela vela faccio vela carico così nella scheda tecnica capirete anche quanti di odia per tutta l'elaborazione comunque dell'audio ed è molto molto particolare proprio perché ha i selettori ad aria libera che sono facilmente manutenzionabili e sono durevoli direi che sono praticamente a vita durano a vita molti cablaggi sono fatti in aria sono fatti proprio a livello aereo poi ci sono queste scatoline qui che chissà all'epoca che cosa si pensava ci fosse in queste scatoline qui e questa qui praticamente l'ho aperta sono molto facili da aprire senza rovinarle ed è praticamente un'induttanza che non fa altro che cambiare 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 i db dell'audio poi per il resto sono tutti i selettori molto basici parliamo di elettronica molto semplice le connessioni che possono dare problemi sono queste qui perché sono degli innesti e invece dall'altra parte sono saldati quindi molti preamplificatori hanno questi innesti o saldati o fatti male questo invece è perfetto li ho già manutenzionati e vanno benissimo naturalmente ho dato una pulita ho sgrassato e ho manutenzionato anche queste prese qui che sono sempre soggette comunque a essere manomesse da chi l'ho avuto in precedenza parliamo comunque di un articolo che ha più di 40 anni quindi chi degli audiofili anziani non si cimenta nel fare ciò che faccio anch'io nel spruzzare spray antiossidanti e quant'altro certo che molte volte può capitare che si usano dei prodotti non buoni o comunque non adatti all'uso che si diciamo che necessita e quindi invece di migliorare l'elettronica la si peggiora e diventa poi tutto unto tutto appiccicoso tutto che va male un prodotto buono è senz'altro il più indicato un prodotto fatto apposta per sgrassare lubrificare contemporaneamente che non sia molto untuoso ma sia abbastanza secco da poter lasciare tutto in maniera molto asciutta è sempre consigliato quindi selettori ad aria cosa molto ma molto belle anche il coperchio che ha le fessure per prendere aria ce le ha protette con una specie di retina per non fare entrare la polvere perché comunque i fori sono molto larghi e la polvere ci entra invece con quella retina che è posta comunque qui sopra dalla parte per proteggere comunque questi selettori dalla polvere sono facilmente manutenzionabili durano a vita le commutazioni vengono fatte tramite questi gardano qua vedete adesso vi faccio vedere come si sposta con il selettore questo selettore qui va a comandare quest'asta che poi fa spostare tutto il meccanismo naturalmente quelli vanno manutenzionati sgrassati lubrificati in maniera molto precisa perché per l'appunto sono soggetti a polvere oppure anche a dei materiali che sono stati spruzzati in precedenza che non hanno fatto altro che peggiorare comunque tutti i potenziometri sono facilmente manutenzionabili e un'altra particolarità è il volume che è in quattro stadi a lps quindi riprende un po la vecchia versione c2 che aveva tutti i selettori invece di essere ad aria libera erano tutti a lps quindi tutti come questo qui tutti chiusi in effetti c2 è leggermente più suona meglio e più rinomato e anche più ricercato il c2 x c2 a sono preamplificatori molto molto ben musicali molto ricercati e tuttora ancora molto costosi perché il c2 x si trova all'incirca ancora 7 800 euro più o meno sono quelli prezzi questo va all'incirca più o meno sulla stessa cifra se ben tenuto e senza graffi come in questo caso ben tenuto non riparato comunque solo riccappato perché questi condensatori bisogna cambiarli ogni sette dieci anni più o meno qualsiasi sia anche se fossero gli originali è la stessa cosa anche se fossero philips mundorff qualsiasi cosa cioè non quelli ogni sette anni bisogna cambiarli quindi vi ho svelato poi questo questo discorso qui di questi piccoli sembrano condensatori ma non lo sono metallici contenitori che hanno delle induttanze dentro che non fanno altro che cambiare diciamo o l'impedenza o possono cambiare anche l'induttanza insomma voglio dire della 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 circuitazione quindi questi erano diciamo i segreti dell'epoca che faceva yamaha adesso invece tutto smd non si vede più nulla viene tutto gestito da software e quant'altro qui invece stiamo parlando di un pre amplificatore che non ha nulla a che vedere con quel tipo di tecnologia è tutto prettamente analogico è in maniera spettacolare fatto benissimo dall'altra parte poi vi faccio vedere l'alimentatore e la scheda che c'è qui sotto questa scheda qui che c'è qui sotto vi faccio vedere naturalmente l'altra particolarità che a questo pre amplificatore è quella di poter gestire sia in simultanea che sia singolarmente le uscite cioè a due uscite per i finali e si possono comandare contemporaneamente due finali separati in stereo oppure uno alla volta o a o b o a e b più o meno come il sistema che hanno gli integrati sulla selezione delle uscite delle casse a o b o a più b era dei selettori proprio per questo dedicati ha anche l'uscita cuffie questa qui è l'uscita cuffie molto molto utile e anche ben suonante perché è fatta veramente bene ha poi i parametri per quanto riguarda i bassi e i treble quindi questi parametri qui servono ad avere una circostanza diciamo di immagine stereo meglio dedicata al punto d'ascolto in base a come si regolano si sentirà diciamo a livello più o meno focalizzato questo pre amplificatore insieme al c6 sono rinomati proprio per questa funzione perché riescono a riprodurre l'immagine stereo di uno studio professionale in effetti sia il c6 che un altro pre amplificatore che ho già recensito e che ho nella mia catena sia c6 che il c4 questo qui hanno questa particolarità sono stati progettati con questo questo regolazione che è come se fossero regolazioni professionali da mixer studio quindi molto molto diverse dal semplice c2 che ha solo regolazioni bassi e alti diciamo che dovrebbe avere una marcia in più del c2 e anche il c6 però a livello costruttivo io credo che il c2 è molto meglio costruito se mi capita per le mani naturalmente farò recensione anche del c2 naturalmente dobbiamo dire anche che il c2 ha anche delle problematiche a livello elettronico per quanto riguarda il balance il left e right che è predisposto pressoché sotto il pomello del del volume e hanno dei problemi sul sui selettori dietro comunque sui trimmer questi invece hanno il selettore totalmente separato sono due semplici trimmer molto comuni e molto qualitativi perché fino oggi non danno problemi e quindi questo ha quello diciamo qui è stato risolto il problema del balance ciò che invece c'era al c2 non tutto su tutte le serie però molte serie del c2 hanno avuto problemi di balance e che avevano questo tipo di problema sull'uscita balance questo invece ha un problema almeno così ho capito negli anni che per quelli che mi sono passati dalle mani al problema del tasto rev che fa l'inversione da in stereo quindi praticamente quando si mette in stereo fa left e right e rev non fa altro che deselezionare stereo e inverte il left diventa right il right diventa left quindi questo è uno dei problemi che da perché sono tre sono tre selettori questo è il rev questo è stereo e questo è mono questi tre selettori sono combinati tra di loro meccanicamente c'è una specie di lamella sotto con questa piccola mollettina qui che dà dei problemi per la selezione e quindi questa mollettina qui può dare dei problemi alla selezione rev stereo o mono però in questo caso problemi non ci sono naturalmente meno è stato toccato meglio è per il resto adesso lo giro vi faccio vedere dall'altra parte come è fatto eccolo qui in tutto il suo splendore bellissimo è un elettronica veramente raffinata poi molto qualitativa e il materiale cui c'è non ha graffi cosa molto importante è questa è la parte inferiore queste amplificate questi per amplificatori qui soffrono anche come tutti i pre amplificatori dell'epoca praticamente lo stadio fono soffriva di surriscaldamento dei sia dei diodi che dei transistor del per amplificatore vero e proprio fono e molte volte si venivano a creare delle saldature fredde queste saldature fredde andavano rifatte in altri casi quelle saldature fredde potevano creare anche un problema proprio sulla sulla basetta proprio e potevano dare problemi di contatto e quindi schioppetti facevano trick track insomma c'erano problemi con l'audio per un falso contatto perché per l'appunto le saldature fredde andavano a creare questo falso contatto e quindi c'erano degli schioppetti proprio molto particolari soprattutto sulla parte fono che è quella che si riscalda di più quando è in funzione per il resto una cosa che bisogna guardare è le saldature fatte in aria libera per congiungere le due schede e dare un'occhiata all'incirca tutto per vedere se ci sono saldature fredde un metodo buono è quello di munirsi per l'appunto di un di una torcia led o comunque una torcia buona che faccia vedere le saldature se sono troppo opacizzate o annerite per quanto riguarda l'alimentatore è un semplicissimo alimentatore che ha un coperchio qui sopra e quindi ho tolto anche quello per dare un'occhiata ai fusibili questo spettacolare anche i fusibili originali la cosa che voglio ricordare a tutti quanti che qui abbiamo un cavo comunissimo quindi non è nulla di esoterico questo per far capire a tanti che hanno la mania di cambiare mettere vaschette i e migliorare il suono e quant'altro le elettroniche se suonano bene suonano bene punto e basta non c'è bisogno di cambiare cavi fare upgrade guastare l'integrità di un vintage che poi fa perdere anche valore se io tolgo questo questo pressa cavo metto una vaschetta i e ci non è più quantificabile diciamo comunque sia si va a perdere la qualità l'originalità del prodotto questo è quanto adesso lo rimonto e ve lo faccio vedere tutto già chiuso giusto per farvi rendere conto ecco qui bello chiuso con i suoi piedini piedini piccolini il cavo originale questa è la la particolarità che ha il pre out per l'uscita dei finali è sdoppiato ma non sdoppiato nel senso che come ho detto prima si può scegliere se usare 12 finali o tutte e due contemporaneamente come stadiofono è pressoché perfetto perché si mmc due giradischi mm e un mc aux tuner che all'epoca aux era un optional come anche naturalmente lo sdoppiatore di mm ma ben japan tutto bello preciso adesso lo giro dall'altra parte vi faccio vedere il frontale allora questo qui è il frontale abbiamo bass e treble potenziometro poi abbiamo il turnover frequency che è quella funzione che vi dicevo prima per avere il punto di ascolto diciamo migliore poi volume cuffia naturalmente tutti i tasti si illuminano ciao l'attenuazione audio poi ha naturalmente filtri come tutti i preamplificatori ama poi a quello che vi ho detto prima lo stereo mono e quant'altro queste sono le regolazioni per il cartridge quindi per lo stadiofono qui è pre 1 pre out 1 e pre out 2 quindi si possono proprio selezionare o un finale alla volta o tutti e due insieme il balance separato volume lps selettore fono 1 fono 2 mc input e rec out spettacolare naturalmente si possono bypassare tutti i toni e questo è quanto io vi saluto se avete qualche domanda scrivetemi pure se sono stato ripetitivo mi dispiace ma qualche volta può capitare per il resto vi aspetto alla mia prossima recensione e buon ascolto a tutti quanti iscrivetevi al mio canale è un saluto e buona musica